Ad oggi se magari mettevamo in conto altri due punti oltre a quello che abbiamo preso e che probabilmente avevamo già quasi in tasca, è chiaro che ci avveniscienevamo alla quota di punti a cui noi ambiamo e quindi avremmo dato anche una sterzata a questo momento negativo. Così rimane una buona prestazione, però ci è mancato qualcosa per vincere. Sì, tu sei troppo buona a dire che la squadra ha dominato, la partita è stata sempre equilibrata, però noi in effetti abbiamo fatto bene perché non abbiamo mai subito sia come occasioni che come possesso palla. La partita, come ho già detto, l'abbiamo fatta bene, però per vincere le partite non ci vuole solo fare il normale, ma a volte bisogna superarsi. Noi in questo caso con l'episodio finale abbiamo peccato e alla fine commentiamo un pareggio che ci sta perché poi in fondo l'interreggio non è che avesse demeritato, però probabilmente oggi noi dovevamo vincere. Perché noi veniamo da sconfitte, non roboanti, ma sempre di misura, dove la squadra si è sempre comportata decentemente, però ha sempre dimostrato poi in queste sconfitte che gli mancasse qualcosa per poter recitare un ruolo diverso da quello che è il nostro obiettivo. Oggi dispiace veramente tanto perché, come ho già detto, la classifica è sempre delicata perché dietro non si ferma nessuno e quindi questi tre punti avrebbero fatto comodo. Insomma, lì a Teramo mi conoscono, quindi sanno quello che penso. I punti ti determinano quello che tu puoi fare. Se tu i punti li fai, hai una classifica importante e puoi ambire ad altro. In questo caso noi siamo a metà del guado ed è sempre importante guardarsi dietro.